Inter-Palermo dà sempre una partita con tanti gol, con tante emozioni. Eccolo il cross, vicino Giulio Cesare e poi la rete! Mantovani è stato bravissimo a seguire. Lascia partire il cross Maicon. Milito! Milito! E il gol dell'1-1! Alla che arriva dalle parti di Budan. Buon suggerimento per Miccoli, attenzione, limite dell'area, la velocità di Fabrizio Miccoli. Col sinistro! Ancora l'Inter, la fuga di Nagatomo che va giù, non ha dubbi guida. E calcio di rigore. Milito! Il pareggio dell'Inter! 2-2! Alla che arriva, attenzione, tutto regolare, ancora il Principe! E non sbaglia il Principe! Balzaretti però la può mettere giù. Trova addirittura a mettere dentro, colpa di testa, 3-3! Miccoli di testa! Spazio per il cross, la mette dentro Pazzini! E poi la rete! Ancora il Principe! Poker! Iliciccia, subito per Miccoli, con scatto di Miccoli. Lucia su di lui, Miccoli! In croce ancora! Fabrizio Miccoli! Triplette!